Le multe per violazioni del codice della strada dovrebbero essere completamente convertite in un periodo di lavoro socialmente utile. Leggendo questa mozione, di primo impatto, ci siamo chiesti perché? Perché? E dando un'occhiata al libro dei fatti abbiamo constatato come da quando si sia deciso di gestire in questa maniera la gestione per l'appunto delle violazioni compiute nel codice della strada, non ci siano stati grandi cambiamenti. Le violazioni sono rimaste nella stessa quantità, talvolta sono aumentate e ci siamo chiesti dunque perché apportare una modifica. E ci siamo dati questa risposta perché c'è sempre tempo per migliorare le situazioni, la società. E dunque ci siamo anche chiesti successivamente perché potesse essere vantaggioso apportare una modifica come quella proposta dalla mozione. E se fosse possibile apportare una modifica che consentisse un miglioramento? La nostra risposta al termine è stata affermativa. E' per questo che vi saluto, sono Simona, prima speaker della mia squadra, squadra di governo, e il mio compito, il mio onere oggi sarà quello innanzitutto di definire i termini della mozione, successivamente di elencare e spiegare quelle che saranno le argomentazioni a favore della nostra posizione e infine approfondire quelle che saranno le tematiche da me trattate. Parto andando per ordine d'unione della mozione, multe. La multe è una pena pecuniaria prevista per determinati reati. In quest'ambito ovviamente si parla di quei reati dati dalle norme del codice della strada. Poi abbiamo la violazione, quindi l'inosservanza di una norma. In questo caso, per l'appunto, si parla sempre di codice della strada, completamente, compiutamente o del tutto. Convertire, vuol dire trasformare o tramutare. E infine il lavoro socialmente utile, la definizione più importante, quella attorno a cui ruota questo intero dibattito. Dunque è quel lavoro svolto da lavoratori precari presso amministrazioni pubbliche, solitamente legati a quei servizi che sono culturali o ambientali. Questo per quanto concerne l'aspetto delle definizioni. Per quanto concerne l'aspetto della strada,